Lavoro e decoro urbano, ovvero due tra le priorità per la città di Pavia, che si sono concretizzate in una convenzione firmata mercoledì in conferenza stampa a Palazzo Saglio, dal sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo, dal direttore di ASM Claudio Tedesi e da Sandro Assanelli, assessore ai servizi sociali del comune di Pavia e presidente del consorzio sociale pavese. L'obiettivo è una sinergia che permetta, tramite l'acquisto di voucher lavoro, di dare un contributo concreto al miglioramento del decoro urbano di Pavia. Sandro Assanelli, assessore ai servizi sociali, presidente del consorzio sociale pavese, che con il comune di Pavia e con ASM oggi hanno stipulato questa convenzione importante che coniuga due esigenze altrettanto importanti, lavoro e pulizia della città. Sì, lavoro e pulizia della città sono due esigenze fondamentali, gente che toccano tutti i cittadini pavesi e non solo. Pavia, nonostante gli sforzi che sono stati fatti, ha ancora una pulizia insufficiente e noi abbiamo cercato di intesa con ASM di arrivare ad uno sforzo comune per migliorare questo servizio. Abbiamo voluto coniugare questo sforzo dando una possibilità di lavoro a cinque persone per un certo periodo di tempo. Non saranno delle grosse cifre, ma è un segno anche di speranza e di attenzione alle categorie più fragili, le categorie che hanno perso magari il lavoro. Categorie di persone che si trovano magari a dover reggere una famiglia senza più avere alcun reddito, neanche il minimo possibile. Ecco, è un'esperienza che il comune, con le risorse del comune e devo sottolineare anche con i residui proprio nell'assessorato del sindaco e quelli del consorzio pavese, abbiamo cercato di mettere a punto un'operazione che sarà dell'ordine di 32 mila euro e si avverrà di un quello di voucher, che sono dei voucher lavoro che noi acquisteremo come comune presso l'IMS. Questi voucher valgono 10 euro all'ora, di cui 7,5 andranno al lavoratore e 2,5 invece saranno per le varie assicurazioni. Vedranno coinvolte delle persone, in questo caso quei uomini, perché anche il lavoro sarà un lavoro più adatto a loro, almeno in questa prima fase, perché ci sono anche da sollevare dei pesi, in cui ci sono anche delle problematiche che sono proprio connesse alla struttura della fisica, in cui ci vuole una certa prestanza. Ecco, questo non è detto che poi in un secondo tempo non debba essere presa in considerazione anche una figura femminile. Ecco, è un tentativo che noi facciamo, speriamo, lo monitoreremo tra alcuni mesi e daremo risultati e vedremo se poi nel 2013 può essere ripresentato e magari, come io mi auguro, potenziato. Cristina Bartesaghi, responsabile del servizio di inserimento lavorativo del Consorzio Sociale Pavese, che partecipa a questa convenzione con Comune di Pavia SM. In concreto, come funziona questa convenzione? Allora, questa convenzione dà la possibilità ai tre soggetti di collaborare, appunto i tre soggetti Comune di Pavia, Consorzio Sociale Pavese e ASM. Comune e Consorzio hanno acquistato voucher lavoro per un valore di 32.000 euro. Questo per dare la possibilità di far lavorare i disoccupati. ASM, Comune di Pavia e Consorzio, contemporaneamente all'acquisto, hanno iniziato a collaborare e a ragionare con ASM per vedere come utilizzare i voucher a favore della città e dei cittadini. ASM, in questa convenzione, si impegna con questa convenzione a fornire tutti quelli che sono gli strumenti, i beni, i mezzi per pulire la città, indicherà quali sono le zone da pulire, se già attivata e si attiverà per la visita di donità sanitaria, piuttosto che appunto per fornire tutto il materiale indispensabile. Comune e Consorzio, con i servizi sociali e il servizio inserimento lavorativo, appunto di cui io sono responsabile, si opererà per selezionare tra i tanti disoccupati che vengono da noi le poche, perché in realtà in questo momento sono 5, comunque le poche persone, ma le tante persone, perché comunque 5 persone in più rispetto a nulla è tanto, che andranno ad operare con i voucher per la pulizia della città.